Una città che legge Barletta, quasi una vocazione da queste parti. L'emergenza sanitaria è imposto dei limiti, ma la biblioteca comunale Sabino Loffredo, in un'ala del Castello Federiciano, rimane un polo di attrazione per decine di giovani e non solo. Qui la lettura viene promossa da sempre. C'è un patto per farla diventare una consuetudine in grado anche di migliorare la qualità della vita. L'amministrazione comunale di Barletta intende promuovere iniziative riguardanti la lettura, in quanto l'Italia è l'ultimo paese in tutta Europa a leggere. Già dal 2016 Barletta si candida e ottiene la qualifica di città che legge, un traguardo che poi sarà propedeutico a quello che vorrà affrontare nell'anno 2022 come Barletta, capitale del libro 2022. L'approvazione del patto, il punto di partenza per candidare Barletta a diventare la capitale italiana del libro 2022. Barletta intende iniziare questo percorso di avvicinamento e di scrittura del dossier per candidare la città il prossimo anno a capitale italiana del libro, coinvolgendo gli attori della città, parlo delle librerie, degli autori, degli editori, dei cittadini, dei lettori, e mettendo a disposizione il patrimonio librario, storico, culturale di questa città e allargando la collaborazione anche al territorio.